Non c'era fatta Gabriele Caretto, classe 1975, cantoniere del comune di Castellamonte, che dello scorso lunedì 12 giugno era ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale CTO di Torino. I soccorsi erano stati allertati dai familiari che l'avevano trovato nella sua abitazione in gravi condizioni, intorno a mezzogiorno e mezza. Sul posto erano prontamente intervenuti la crociosa di Castellamonte e l'elisoccorso del 118 e i carabinieri. L'uomo, dopo essere stato stabilizzato, era stato elitrasportato con urgenza all'ospedale. Purtroppo oggi la triste notizia. Adoviderci. Adoviderci.